Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. La cronaca rosa è in subbuglio dopo la conferma della separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La loro relazione, caratterizzata da numerosi alti e bassi, sembra stavolta giunta al termine in modo definitivo. Scatenando speculazioni di ogni tipo, c'è chi parla di tradimenti, mentre altri avanzano ipotesi diverse. Una cosa è certa, però, la notizia ha generato un'ondata di curiosità e discussioni. Per Stefano è un periodo complicato, sia sul fronte sentimentale che professionale. Sembrava infatti certo che la crisi con Belen fosse superata, ma la realtà ha preso una piega inaspettata. Nel frattempo, Belen mantiene un profilo basso, si dice che sia a casa della madre, mentre i figli sono affidati ai rispettivi padri. Al momento, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da lei, aumentando ulteriormente il mistero intorno alla vicenda. Nonostante le difficoltà, un raggio di gioia illumina la famiglia De Martino. La sorella di Stefano, Adelaide, è in dolce attesa. Una notizia che ha portato un po' di sollievo e felicità in un momento teso. Stefano, molto legato alla sorella, è entusiasta di diventare zio, e anche la loro madre, Maria Rosaria Scassillo. Ha condiviso sui social un messaggio pieno di amore per il futuro nipotino, riempiendo di gioia i suoi follower. L'arrivo del piccolo è atteso con grande emozione, portando una ventata di felicità nella famiglia De Martino, che ora guarda al futuro con rinnovata speranza. E voi, cosa ne pensate di questa storia? Condividete le vostre opinioni nei commenti.